Ciao a tutti, bentornati e benvenuti al mio canale, sono Miss Giulia e questo è un video dedicato al sito Everyday Ideals, con questo sito e la seconda collaborazione ho scelto due tele, per chi si fosse perso la live di qualche giorno fa ho realizzato appunto la live dove vi mostravo cosa ho scelto dal sito, ho scelto due tele e adesso andremo a realizzare insieme la seconda tela questo hobby è davvero rilassante, come dicevo l'altra volta, hashtag stai senza pensieri, come dicevo appunto la prima volta che ho provato questo hobby mi sono divertita tantissimo, ho realizzato la tela dei pappagallini, presa appunto sempre dal sito di Everyday Ideals e adesso andremo a realizzare insieme questa tela qui, che è davvero un amore c'è scritto home where your heart, davvero carissima, questa scritta mi scalda il cuore come ho detto anche in live poi c'è questa casina con il cuoricino e poi ovviamente anche la porta comunque io già in live ho iniziato la tela, con questi diamantini appunto la bustina numero 10 che corrisponde alla lettera F infatti adesso andrò avanti perché qui lungo tutta la cornicetta che è di 30x30 andrò a mettere i diamantini della lettera F e quindi appunto questi qui turchesi e vi mostrerò man mano come procede appunto la tela con tutti i vari diamantini e vi mostrerò man mano come procede appunto la tela con il cuore e vi mostrerò man mano come procede appunto la tela con il cuore e vi mostrerò man mano come procede appunto la tela con il cuore e vi mostrerò la la tela con il cuore avete visto cosa ha fatto? ed ecco qui la tela terminata, io davvero l'adoro, davvero stupenda questa scritta con scritto home wear your heart, appena l'ho vista sul sito me ne sono follemente innamorata quindi è stato un piacere anche realizzarla perché queste sfumature sono davvero bellissime, poi i diamantini come vedete sono tutti belli sfaccettati e rendono la creazione molto luminosa, come vedete tutte le varie sfumature di colore è davvero davvero stupenda vi consiglio di andare a curiosare sul sito di everydaydeals.com, ci sono davvero tante tele con tanti soggetti differenti, c'è la sezione appunto dove tutte le tele costano 3,99$ quindi nulla proprio davvero pochissimo dei prezzi visori e poi c'è anche la sezione dove paghi una tela e ne prendi appunto due, quindi vi lascio il link in descrizione vi lascio anche il link di questa tela e anche dell'altra che ho scelto se vi siete persi appunto la live dove vi mostravo entrambe le tele ve la linko qui nella i di informazione ripeto, mi sono davvero divertita non lo dico tanto per dire perché davvero è stato estremamente rilassante ho riscoperto questo nuovo hobby questa è la seconda tela che realizzo ed è sempre un piacere anche se è molto ripetitiva perché poi alla fine è soltanto bisogna soltanto inserire dei diamantini sulla tela dove appunto c'è già la leggenda quindi è molto semplice e intuitivo quindi non è nulla di complesso però sono quegli hobby davvero che ti almeno a me personalmente mi danno molto molto relax mi sento molto riposata dopo che ho realizzato una tela è soddisfacente e addirittura questa tela l'ho realizzata nei giorni di festa tra una buffata e l'altra ci ho infilato appunto qualche pezzo della tela perché poi non so se avete visto dal video io proseguo appunto per colore quindi mi metto la leggenda davanti e poi pian piano vado a realizzare tutti i colori presenti non vado per sezione cioè faccio un colore per volta quindi sto lì piano piano e mi metto tutti i miei diamantini sulla tela ed è rilassante come ho detto sempre hashtag stai senza pensieri niente ragazzi io spero che questo video sia stato di vostro gradimento non vi ho mostrato proprio l'inserimento di tutti i diamantini perché sennò il video veniva lunghissimo quindi ho fatto la mia magia del bibidi bobidi boo niente spero che almeno l'editing di questo video sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni con nuove cose ciao ciao ciao